Allora, io penso che stasera veramente è stata una serata straordinaria in un posto eccezionale, quello di Trisormare, in quanto io lo ritengo uno dei posti della costiera malpitana e tra i più belli al mondo, come quelli che abbiamo nella nostra pericolosa orientale. Penso che stasera abbiamo interpretato veramente quello che è la vera tradizione della cucina italiana, facendo piatti della tradizione e rispecchiando e valorizzando i miei valori attraverso tutta l'Italia. Abbiamo attraversato tutta l'Italia, è stato un evento che ci ha veramente entusiasmato al mio cucino, ma anche ai commensali a tavola. È stato veramente straordinario per festeggiare questi 60 anni dell'Unione dei Ristoranti in Buon Ricordo. E' stato un successo per tutti quanti noi, ma per l'Italia intera, a partire da noi, dal centro da noi. Stasera ne eravamo in tanti e penso che sia riuscito bene. Grazie Mimmo, il tempo che ti ha dedicato, ti facciamo i nostri obiettivi. Io ringrazio sempre voi. Steremo a vedere il piatto del Buon Ricordo attaccato alle pareti del tuo amore. Grazie, grazie a voi e buona serata.